chi è è perché scusi perché mi dovete identificare ma io sono scesa col pigiama per prendere una pizza fuori ma io sono scesa col pigiama per prendermi la pizza fuori allora in questo punto siete live su facebook quindi lei mi dice che mi vuole sfondare la porta mentre io scendo giù per prendermi la pizza mi sono nel campanello stanno svegliando tutti nel palazzo mentre io sono scesa per prendervi una pizza questo è quanto adesso io apro signora salve questo è il mio documento grazie uno due tre e quattro a casa mia penso che posso tenere delle camera signora perché non ci voleva dare i suoi dati perché sono scesa a prendermi la pizza giù sotto casa e questo penso che non sia assolutamente impedito da nessuno non lo è infatti o meglio ma sette persone che vengono a chiedermi come mi chiamo mentre io sono in cerca del ragazzo che mi deve portare la pizza e che non mi trova sette persone mi perdoni ma se erano loro di servizio erano loro impiegati in quella strada le si sono avvicinate sicuramente cortevemente perché li conosco i colleghi chiedendole lei chi è così come è sempre stato fatto e lei non ha risposto e è scappata sì è venuto un ragazzo per la pizza che mi ha dato in mano i suoi colleghi hanno visto il signore mi ha seguito fino a casa io devo andare devo andare a mangiare grazie arrivederci se questo è il lavoro non vi dico sicuramente buon lavoro